Premetto due cose che penso io abbia illustrato sufficientemente nella mia storia alternativa. Io non ritengo che un partito politico o qualsiasi formazione politica o qualsiasi coalizione politica possa in qualche modo risolvere a pieno nel cuore i problemi degli uomini. Quindi per risolvere i problemi perenni dell'umanità si deve percorrere un'altra strada. Sono convinto però che vivendo in una particolare situazione storica si possa e si debba cercare in qualche modo la meno peggio. Seconda premessa. Io sono convinto che l'Italia abbia delle potenzialità incredibili. Non ha l'oro nero, è vero, non ha il petrolio. Non ha neanche i giacimenti di ferro, di zinco, di rame. Però ha una tradizione culturale, ha un patrimonio di bellezze che potrebbero trasformare l'Italia nel giardino d'Europa. E questa è la nostra ricchezza. Noi abbiamo ogni tipo di turismo. Il turismo alpino, il turismo lacustre, il turismo dei nostri mari vergini, particolarmente dei mari del sud. Noi abbiamo il turismo culturale. Voi sapete che più del 60% del patrimonio culturale esistente in tutto il mondo si trova in Italia. Noi abbiamo il turismo religioso. E il turismo poi è un indotto che mette in movimento tantissimi altri aspetti dell'economia. Noi abbiamo un clima favorevole che permette in certe zone dell'Italia delle culture di pregio. basterebbe soltanto saperle organizzare degli allevamenti particolari. I nostri prodotti italiani sono importanti in tutto il mondo. Sono ricercati, sono conosciuti. Allora, date queste premesse. Qual è la ragione per cui l'Italia vive una sofferenza così forte, così pesante? Davico individua due mali, due bobboni dell'Italia. Il primo è la corruzione dei colletti bianchi e la corruzione del mondo politico. L'altro è l'organizzazione delle cosche mafiose, la delinquenza organizzata, mafia, camorra, dranca, sacra, 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 corone. Io ne aggiungo un'altra che più che essere un'altra è parallela alle prime due. Sono gli pseudoproblemi. Sono gli specchietti per le allodole utilizzate da certi movimenti in modo particolare dei movimenti di sinistra. Voi sapete benissimo che io non sono di sinistra. Ma guardate, io non ce l'ho con la sinistra quella che una volta era incarnata nel Partito Comunista. Il Partito Comunista fu sempre un partito corretto, sufficientemente equilibrato. Io mi ricordo i Paietta, mi ricordo l'Ingrao, mi ricordo Berlinguer. Io parlo di un'altra sinistra. Quella sinistra che è entrata nella sala dei bottoni negli anni Sessanta e si può dire che non è mai più uccita. È la sinistra di Craxi. Quella sinistra che ha sempre tenuto il piede in due staffe. Quella sinistra che si è prostituita in tutti i modi. Quella sinistra che aveva la tangente del 3 del 4 per cento, per cui i socialisti e i Craxi nella zona del milanese era definito mister 3 per cento. Quello spirito che è stato in un certo senso ereditato dalla sinistra di oggi. Una sinistra molto spesso invidiosa, petulante, che anche quando perde non permette agli altri di governare. e questo atteggiamento sinistra unita a un certo clima culturale radical chic utilizza gli pseudoproblemi per distrarre gli italiani dai veri problemi. A questo atteggiamento purtroppo, secondo me, si è unito anche Forza Italia e tante volte anche altri partiti. Quali sono gli pseudoproblemi? Ma gli pseudoproblemi sono, ad esempio, il voler appoggiare, raccogliere a decine e decine di migliaia le firme per esprimere la solitarietà ad un insegnante che si è permesso di accostare delle leggi di uno Stato democratico di un governo eletto democraticamente alle leggi razziali del 1938. Qui si parla di democrazia, si parla di libertà, libertà di insegnamento, libertà garantita dalla Costituzione. E' uno specchietto per le allodole perché a Palermo, in Sicilia, io penso che ci siano dei problemi molto più grandi. E non mi venite a dire che io non conosco la situazione della Sicilia perché mio papà era siciliano, sono di origine siciliana, me ne vanto perché è una terra meravigliosa, come certamente sono bellissime le regioni della Calabria, della Puglia, della Campania, eppure per una unificazione dell'Italia voluta nell'Ottocento, un'unificazione violenta, è nato questo bubone la delinquenza organizzata che almeno una volta aveva un codice d'onore. Oggi dei codici d'onore non se ne parla più. C'è la prostituzione, c'è l'immigrazione clandestina, c'è la droga, c'è la rovina dei nostri giovani. Ecco allora che gli pseudoproblemi vengono fuori e dimenticano invece altri problemi che sono molto più importanti. Lo pseudoproblema della libertà di insegnamento. Ma vi rendete conto quante altre volte si sarebbero dovuti appoggiare gli insegnanti con firme, con una partecipazione di solidarietà laddove gli insegnanti sono stati insultati dagli alunni, dove sono stati malmenati dai genitori, dove sono stati puniti e sono stati denunciati per aver fatto semplicemente il proprio dovere. Lì non si è mosso nessuno. Guarda un po' che è strano. Ci si dimentica che se una certa situazione si è conservata nel mezzogiorno è perché non si sono mai presi dei dovuti provvedimenti. Si fanno le manifestazioni in onore di Borsellino, di Falcone, ma quando questa gente lavorava e operava non sono stati dati loro gli strumenti per operare adeguatamente. Ci dimentichiamo il dalla chiesa. Cento giorni viene ammazzato e massacrato con sua moglie. Erano governi di centro-sinistra quelli. E oggi non è cambiato niente. Io mi ricordo di un caro amico ma poi ho anche dei parenti giù in Sicilia. Un caro amico muratore ebbe a lavorare in Tunisia adesso è il settantenne. Lavorò in Tunisia, in Algeria, in Svizzera. Si fece il suo gruzzoletto, ritornò in Sicilia, comprò uno spurgo. Dovete vendere tutto perché lebbero a fermare due o tre o quattro volte per chiedergli il pezzo. Venne su qui in Settentrione, fece il bidello, chiamò la moglie, poi quando riuscì a ritornare in Sicilia, oggi mi dice Vincenzo, non è cambiato nulla. Prima c'era la democrazia cristiana, i liberali, i socialdemocratici, adesso c'è Forza Italia, c'è il PD, c'è l'Aleanza Nazionale, c'è il Centro Cristiano Democratico. non è cambiato cambiato nulla. E noi usiamo gli pseudoproblemi e parliamo di fascismo e si è parlato di antifascismo anche alla fiera del libro. Abbiamo censurato una casa editrice, abbiamo censurato un libro che parlava di Salvini in nome di nuovo di un altro pseudoproblema, l'antifascismo. Però in quella mostra è entrata tutta la cultura islamica. Nella sua prospettiva di asservimento delle donne nella sua prospettiva molto spesso della guerra santa che tante vittime ha determinato qui in Europa e non solo in Europa. E quando non c'è il fascismo da combattere, un presunto fascismo che non esiste più perché fascismo, marxismo, stalinismo, nazismo, ormai almeno in Italia sono morti e sepolti per fortuna, allora bisogna combattere gli antiabortisti. La battaglia, questa battaglia da Don Chisciotti fallite dell'antiabortista, è una battaglia sposata anche dai Cinque Stelle da Di Maio perché Di Maio evidentemente non potendo rastrellare voti dal centrodestra occupato dalla Lega deve rastrellare voti dal centrosinistra e si mette a giudicare il congresso di Verona oppure toglie il suo simbolo da un certo Moreno che avrebbe dovuto portarsi a Cagliari un cardiochirurgo perché si è proclamato antiabortista. Di nuovo un pseudoproblema perché l'antiabortista oggi non ha nessuna intenzione di sopprimere la legge sull'aborto e non ha nessuna intenzione di cancellare la legge sull'aborto perché ormai è entrata nella cultura degli italiani è un po' come il tabacco il tabacco fa male alla salute come fai però a impedire il consumo del tabacco è entrato nella cultura degli italiani così come l'aborto però un antiabortista sindaco governatore assessore può in qualche modo aiutare le donne che vogliono abortire perché hanno dei reali motivi togliendo eliminando riducendo questi motivi che possono condurre una donna all'aborto una donna potrebbe abortire perché ha già troppi figli e non può mantenere il quarto il quinto il sesto una donna potrebbe abortire perché il marito non ha lavoro vive una condizione di disoccupazione non ha un alloggio ha degli ammalati in casa ci sono degli handicappati ebbene lì l'antiabortista oggi può agire aiutando la donna e rimuovendo quegli ostacoli che potrebbero condurla all'aborto e sarebbe questa la soluzione giusta gli abortisti invece risolvono tutto in che modo eliminiamo i feti e allora ecco la loro battaglia folle le loro accuse vergognose no? Di Maio ci dice chi è abortista ha una prospettiva da medioevo e tu Di Maio non ce l'hai la prospettiva da medioevo quando vai alle processioni del tuo San Gennaro è più in sintonia col Vangelo chi è contro l'aborto non solo a parole ma cercando di aiutare chi si trova in difficoltà o è in più in sintonia la tua la tua folcloristica adesione al cattolicesimo con San Gennaro ma poi non ci siamo mai posti il problema del perché la stragrande maggioranza dell'ostetricia la maggioranza dei dei dottori siano addetti al parto evidentemente siano contrari all'aborto io parlo della mia esperienza io non avrei mai il coraggio di ammazzare un pollo un coniglio a meno di che ci siano l'invasione delle formiche se c'è un insetto un ape un calabrone un ragno cerco di farlo uscire dalla finestra e io trovandomi in mano un feto ma con che coraggio ma pensate il chirurgo oggi poi in certe zone del mondo si arriva a dei feti di 4, 5, 6, 7, 8 mesi io mi trovo di fronte ad un feto in mano lo prendo lo butto nell'immondizio è una cosa terribile è una cosa che può fare solo l'abonino un feto un feto che fra 10 anni potrebbe essere un ragazzino un feto che fra 20 e 30 anni potrebbe essere Madre Teresa di Calcutta potrebbe essere un secondo Galilei potrebbe essere un Einstein potrebbe essere un Leonardo da Vinci è vero potrebbe anche essere un omicidio a seriale ma con che diritto io lo butto nelle immondizie le siete messi nei panni nei panni di un ginecologo e il dottor Mureno non avrebbe diritto di dire sono anti-abortista vedete un altro pseudo problema dobbiamo combattere gli anti-abortisti perché propongono una cultura medievale ma vergognateli poi ce ne sono altri pseudo problemi sbandierati dalla sinistra o da certi esponenti della sinistra si parla di sessismo si parla di omofobia io questa omofobia non la vedo attorno a me io ho avuto due amici uno purtroppo è mancato parliamo di amici con la maiuscola uno purtroppo è mancato aveva la mia stessa età tutte e due omosessuali ma io le ho li ho sempre accolti a braccia aperte e loro hanno sempre accolto a braccia aperte uno si è confidato con me di essere omosessuale aveva vent'anni già l'altro verso i 30-40 ma non è cambiato assolutamente niente il rapporto che avevo con questi ragazzi con questi ormai uomini io non ho mai visto nei loro confronti un'azione discriminatoria ho avuto un alunno omosessuale adesso ha 30 anni è insegnante anche lui ha fatto la sua carriera non l'ho mai visto oggetto di canzonature io sono entrato nella scuola a 6 anni come bambino ne sono uscito a 61 mai visto nulla di questo genere semmai ero io oggetto di canzonatura perché andavo a servirme essa noi stiamo inventando delle cose che non sono mai esistite il sessismo la persecuzione contro le donne e lì si fanno degli studi non c'è dubbio non c'è dubbio che in certe situazioni è stato così ma insomma bisogna anche ampliare la propria visuale le donne sono state sempre sfruttate come operai ma se noi andiamo agli inizi le donne non avevano ad esempio l'assistenza per la maternità ma perché gli uomini avevano un'assistenza per eventuali infortuni avevano la pensione ah ma la situazione delle donne nel medio era terribile ma perché per gli uomini servi della greva non era ugualmente terribile io ho conosciuto mia nonna mondo siciliano morta nel 1963 era un dittatore era una donna i figli si rivolgevano a lei dandole del lei e l'ultima parola era la sua guai contraddire la mamma e la stessa cosa voleva per il marito era lei che dettava legge in famiglia e mia mamma mia mamma erano tre in casa due fratelli e lei i due fratelli dopo la terza media andarono a lavorare mia mamma venne a frequentare un istituto magistrale privato e ottenne il diploma da maestra ma abbiamo proprio un'azione così discriminatoria nei confronti delle donne poi se evidentemente in qualche settore c'è questa realtà guardate non ci vuole niente a fare una leggina dall'oggi al domani e cambiare questa situazione non ci vuole nulla ma la sinistra non aveva dei problemi molto più grossi al tempo di Monti sono stati lasciati senza pensione e senza stipendio decine di migliaia di lavoratori italiani e a loro non si è pensato ecco gli serdoproblemi il sessismo l'omofobia e quelli che sono rimasti senza stipendio per anni senza stipendio e senza pensione ed italiani continuano a essere dirottati in altre direzioni non quelle che effettivamente devono essere prese in considerazione seriamente non parliamo poi l'immigrazione in nome di un'umanità ma quale umanità è stata esposta lo scafo dove 3-4 anni fa sono morti o 600-800 immigrati quasi a monito delle scelte portate avanti da Salvini ma semmai quella è la testimonianza delle scelte portate avanti da quel governo di sinistra sono morti perché si sapeva che i porti erano aperti quindi via sugli scafi e ne morivano a migliaia in mare e non si sarebbero dovuti prendere delle soluzioni e come ha affrontato quel governo di sinistra quella situazione limite con le cooperative cooperative in connivenza con le organizzazioni mafiose denaro che ha fluito dalle casse dello Stato le tasse dei cittadini che finirono in tasca ai mafiosi con la connivenza chiaramente dalle forze di governo perché non è possibile altrimenti cioè vedete anche in questo caso l'incapacità del governo un governo tenuto da una sinistra oltretutto una sinistra non eletta perché per quattro anni il popolo italiano è stato governato da un governo non eletto dai cittadini voluto dallo stalinista napolitano e da uomini non eletti che si facevano lo sgambetto tra di loro vi ricordate Renzi che fece lo sgambetto a letta in quattro cinque anni quattro governi inizio Monti Letta Renzi Gentiloni una vergogna un governo che non sepe affrontare l'emergenza perché io mi chiedo un governo che veramente funziona un governo ha in mano tutta l'organizzazione sanitaria tutta l'organizzazione scolastica ha in mano le forze dell'ordine ha in mano l'esercito ha in mano i comuni le province le regioni perché doveva appoggiarsi a delle copertine non poteva affrontare lui il governo per direttissima questa emergenza degli immigrati è vero che alla fine degli ultimi mesi è intervenuto poi Minniti però la cosa è stata portata avanti ed è finita nel nostro Salvini che io appoggio incondizionatamente ancora e cosa di ieri un altro pseudo problema secondo me ha fatto male Salvini a sventolare il rosario ma anche questa è stata una ragione di critica in modo particolare da una famiglia cristiana che di cristiano ha ben poco che spesso ha riportato sulle sue pagine delle menzogne sistematiche dal Vaticano che pensa di avere il monopolio della lettura del Vangelo e del Cristianesimo dimenticandosi che certi simboli sono stati utilizzati proprio dalla Chiesa perché la democrazia cristiana non è andata avanti sempre con simboli addirittura sullo scudo è stato messa la croce e i preti non stanno entrando in una condizione che non è di loro noi sappiamo che ci sono dei preti che alla fine della celebrazione eclistica fanno cantare bella ciao degli altri che invece di fare i pastori fanno i sindacalisti abbiamo dei cardinali che fanno parte della diplomazia pontificia e quindi con una garanzia di extraterritorialità e di immunità che vanno a fare gli elettricisti per dare l'elettricità ai a gente che sta occupando illegalmente un immobile ed ecco di nuovo gli pseudoproblemi troviamo Salvini che sventola il rosario dimenticandosi tutte le altre volte che sono stati sventolati dei simboli cristiani a proprio uso e consumo e per ritornare alle lemosiniere papale si mettono di nuovo altri pseudoproblemi si mettono in evidenza sulle spalle pagine stampate il ragazzo in carrozzella l'anziana l'altro che è ammalato che ha bisogno dell'ossigenatore e si dice vedete vogliamo mandar via questa gente ma scusate di nuovo un po' come per lo scafo di prima che ricorda la morte di 600-800 africani anche in questo caso questa gente sta occupando abusivamente un immobile ma da quando? e da più di dieci anni sono passate amministrazione con forza Italia alle manno e amministrazione di sinistra che cosa hanno fatto? cioè di fronte all'handicappato all'anziano all'ammalato al senza tetto al miserabile cosa hanno fatto? queste amministrazioni capitoline non soltanto a Roma se ne sono lavate bellamente le mani per cui questa gente è stata costretta ad un'occupazione abusiva il problema è che dietro questa occupazione abusiva di gente che ne aveva il diritto perché italiani si sono nascoste altre centinaia di persone delinquenti scansa fatica e mangia paglia tradimento e noi li dobbiamo mantenere per mancanza di legge non voluta da centri di interesse non parliamo poi di tutti quegli immobili occupati da gente che stava benissimo di proprietà della Roma capitolina e pagata a spiccioli al centro di Roma 20, 40, 50, 70, 100 euro cosa hanno fatto quelle amministrazioni? e adesso utilizziamo gli pseudoproblemi Salvini vuole cacciar via gli ammalati i bambini i disabili che poi c'è da chiedersi perché quelle lemosiniere con tutte le proprietà che ha la chiesa non ha trasferito quelli che veramente hanno bisogno in qualche monastero considerando tutti i monasteri che ci sono alcuni trasformati in hotel altri mezzi vuoti perché viene a casa di un altro a dare ordini perché è un cardinale e allora lasciate che Salvini sventoli il rosario a tutti i diritti di farlo tu stai sventolando la tua croce e la tua autorità è di queste ultime ore un'altra trovata di un vescovo siciliano Mogadero che ha addirittura scomunicato Salvini questo vescovo probabilmente non si ricorda del passato non si ricorda del clero in connivenza con la mafia non si ricorda del cardinale Uffini arcivescovo di Palermo e di tutte le porcherie che il clero ha fatto in Sicilia e che io conosco molto bene a me dà la sensazione che questa gente compresi certi vescovi vogliono mantenere lo status quo vogliono mantenere un'Italia meridionale in mano alla delinquenza organizzata non vogliono la legge probabilmente hanno degli interessi degli interessi occulti delle connivenze col mondo politico quello scudo crociato che tante volte è stato sventolato dai rappresentanti della democrazia cristiana quando mio zio comunista salinista negli anni 70 mi raccontava certe cose io non ci volevo credere perché non potevo credere che dei cristiani potessero commettere dei crimini di quel genere poi tutto è venuto a galla addirittura questi avvenimenti sono stati portati su dei lungometraggi televisivi quei nomi che mi faceva mio zio erano tutti veri ed erano della democrazia cristiana appoggiata dalla chiesa sarebbe opportuno che i preti cominciassero a fare i pastori guardate le vostre comunità guardate le vostre chiese vuote guardate i vostri scandali guardi i suoi colleghi che hanno attici da 300 400 500 metri quadrati in Vaticano io sono cattolico e sono persa lì perché solo la legge in una prospettiva umana in una prospettiva umana solo la legge può salvare l'Italia dal baratro ma ne è arrivato un altro di pseudoproblema l'ONU ha detto che il decreto bis di Salvini non è democratico ed ecco di nuovo questa sinistroide questo atteggiamento sinistroide questa radical chic che sanno di niente che in realtà non risolvono mai nulla l'ONU ha detto ma chi è l'ONU quali sono i poteri forti dell'ONU Francia Inghilterra Stati Uniti governi colonialisti per eccellenza che hanno destabilizzato l'Africa l'Africa se si trova in queste condizioni se ci sono delle lotte intestine in certe nazioni terribili è perché l'Africa è stata divisa a tavolino da parte di questi colonizzatori sono stati messi nelle stesse nazioni etnie differenti di lì le guerre civili ma non basta ancora oggi Africa Stati Uniti Inghilterra intervengono a destabilizzare non parliamo quello che hanno fatto gli Stati Uniti d'America del centro e del sud d'America parliamo di quello che fa la Francia con la sua moneta parliamo quello che ha fatto la Francia in Inghilterra destabilizzando la Libia perché questa massa di gente che sta fluendo attraverso l'Italia arriva proprio da quella destabilizzazione si voleva portare la democrazia nella Libia ma non raccontiamo storie anche a quello lì e lo specchietto delle allodole la Francia era interessata la Libia per i suoi giacimenti di petrolio e cosa hanno fatto gli Stati Uniti d'America in Iraq prima hanno armato l'Ira fino ai denti e a contribuire quell'armamento c'è stata anche l'Italia con i suoi governi di centro-sinistra poi è intervenuta con centinaia e migliaia di uomini con delle spese mastodontiche perché riteniva che Saddam Hussein nascondesse armi chimiche poi si è visto che non c'è nessuna arma chimica è in Afghanistan dopo la terribile esperienza dell'URSS oggi abbiamo anche noi dei nostri soldati la produzione di droga si è centuplicata e noi dovremmo ricevere non parliamo poi della Russia sapete cosa ha fatto il presidente della Russia rispetto a certe minoranze presenti in quella nazione e noi dovremmo ricevere degli insegnamenti dall'ONU di democrazia un ONU che non è mai intermeruto realmente là dove ci sono dei problemi gravi pensate all'esperienza di Guanda Volunt si interviene solo e soltanto quando ci sono degli interessi economici quando ci fu il disastro della Jugoslavia l'ONU non sapeva vita divorano quel denaro una percentuale molto alta di denaro stanziato dalle singole nazioni quel denaro che dovrebbe invece servire per portare l'educazione l'istruzione guarire le medicine eccetera nei popoli sottosviluppati è un buco nero l'ONU con tutte le sue organizzazioni in realtà pochissimo va a finire là dove dovrebbe essere l'obiettivo dell'intervento l'intervento ecco allora per quale ragione io penso che sia necessario l'intervento di Salvini non è un santo Salvini ha i suoi limiti fa anche lui il suo gioco evidentemente però è un gioco almeno costruttivo una nazione ha bisogno di leggi le leggi devono essere rispettate in modo particolare devono essere rispettate nel mezzogiorno le leggi devono essere rispettate nelle scuole altrimenti continuano a uscire degli ignoranti e dei piccoli delinquenti oltretutto sono loro le prime vittime perché siamo noi che li vogliamo così deve andare via lo spaccio dalle piazze dai paesi dagli stabili occupati l'immigrazione se viene non deve destare razzismo perché attenzione io ho sempre ritenuto anche il razzismo in un'altra bandiera sventolata dalla sinistra il popolo italiano non è mai stato razzista neanche quando vennero a quelle maledette leggi del 38 la stragrande maggioranza dei fascisti ebbero a bypassarle perché non era dello spirito italiano era un atteggiamento tipicamente tedesco e nazista però quando si ha paura c'è il rischio della reazione c'è il timore poi di diventare nazisti razzisti ma come mai non vi siete mai chiesti per quale ragione ci sono delle comunità che da decenni e decenni che sono presenti in Italia e non hanno mai destato nessuna reazione pensate alla comunità dei filippini che è stimata che viene cercata particolarmente per acudire agli ammalati e agli anziani ma perché i filippini sono venuti in Italia hanno rispettato le leggi non hanno mai dato mai a nessuno arrivano questi e pretendono di imporre l'errore legge agli altri non vanno bene le croci nei cimiteri parlano di guerra santa io ho sentito intervistare queste persone di 20-30 anni che dicono ma sì andiamo bene però manca la pulizia il mangiare eccetera ma scusami tanto hai 20-30 anni dati da fare pulisci tu preparati da mangiare ma no non si può perché il governo di sinistra non ha varato delle leggi adeguate non si può far lavorare questa gente ci sono state delle cooperative che hanno utilizzato la loro mano d'opera perché tra questa gente c'è anche gente che vuole lavorare della gente onesta ha utilizzato questi uomini in modo particolare questi uomini per imbiancare pulire sono state denunciate perché non bisogna farle lavorare c'è un'inadeguatezza che fa paura allora questa è la ragione per cui non posso più credere dalla sinistra e tanto meno in Forza Italia Forza Italia non è riuscito a combinare nulla il credito di cittadinanza ad esempio criticato da tanti sembra funzionare voluto dai 5 stelle bisogna darne atto ma perché funziona? perché sono state messe delle regole ben precise perché sono stati predisposti dei paletti ben precisi così non si dà la possibilità al solito scroccone di vivere sulle spalle degli altri accede al reddito di cittadinanza chi ne ha veramente bisogno le regole sono necessarie non bastano però solo le regole perché di leggi in questi anni se ne sono ammucchiate a migliaia con una confusione generalizzata bisogna tra le altre cose sfoltire tutta la burocrazia e poi poche leggi con la sicurezza dell'applicazione e chi non le rispetta deve incorrere nei rigori della legge l'invito che nasce da tutto il cuore però nei confronti della Lega è questo adottate senza arrivare a degli estremi incompatibili con la vostra cultura adottate il principio dell'onestà la gente vuole onestà sotto questo punto di vista 5 stelle hanno ragione chi è indagato specialmente per baratteria direbbe Dante Lighieri perché ha messo al primo posto i suoi interessi di fronte agli interessi dello Stato deve essere sospeso avanti così io penso che le persone oneste italiani onesti i cristiani italiani onesti siano con Salvini io almeno sono incondizionatamente con lui che non ritengo assolutamente arrogante c'è qualcun altro che è da decenni che va avanti e perpetua in modo invercondo la propria arroganza portando la rumina l'Italia